Luca Giurato Luca Giurato, età, altezza, moglie, figli e vita privata Chi è Luca Giurato, vita privata, peso, altezza, carriera e curiosità sul conduttore e giornalista Il 23 dicembre del 1939 nasceva a Roma Luca Giurato. Giornalista e conduttore televisivo della RAI, Luca compirà 78 anni fra alcuni mesi ed ha alle spalle poco meno di 60 anni di carriera Era appena maggiorenne, infatti, quando ha debuttato nel mondo dell'informazione, esordendo come cronista del defunto quotidiano Paese Sera. Alto 1 metro e 88 centimetri, distribuiti su 87 chilogrammi di peso, Giurato è sposato in seconde nozze con una collega Sua moglie è infatti la giornalista del Tg2 Daniela Vergara. I due insieme non hanno avuto figli. Il presentatore ne ha uno, nato dal primo matrimonio con Gianna La sua popolarità è cresciuta nel tempo, soprattutto in tarda età, quando è stato alla guida di Domenica in, 1993, insieme a Maravendie e dopo di uno mattina, che ha condotto per tanti anni su RAI 1 Ha conquistato anche una certa notorietà grazie alle sue innumerevoli gaffe ai lapsus di cui si è reso protagonista in diretta tv. Luca Giurato, il re dei lapsus e delle gaffe, esordi e carriera del giornalista RAI Dopo il debutto nel mondo dell'informazione a Paese Sera, Luca ha proseguito la sua brillante carriera di giornalista al prestigioso foglio torinese La Stampa Lì si è fatto conoscere ed apprezzare, tanto da divenire a fine anni Ottanta direttore del GR1, il giornale radio della prima emittente FM del servizio pubblico Nel 1990 ha svoltato in televisione, con la nomina vice direttore del TG1. Nel 1993 è giunto la co-conduzione di Domenica in al fianco di Maravendie Negli anni a venire, ha presentato uno mattina, la trasmissione che dà il buongiorno al pubblico della RAI, al fianco di numerose colleghe È stato al timone del morning show per tantissime edizioni, e proprio in quella sede ha spopolato per gaffe e lapsus in diretta, che gli sono valsi l'onore della cronaca e gli sberleffi della Giallapas Band e di Strescia la notizia Giurato i ruoli in tv oltre l'attività giornalistica, la partecipazione agli show. Dagli anni 2000 Luca ha partecipato a numerosi spettacoli televisivi con lo ruolo di opinionista. Fra questi spiccano i raccomandati e l'Isola dei Famosi, entrambi show di Mamma Rai In casa Mediaset, nel 2010 ha preso parte al talent show prodotto da Maria De Filippi Let's Dance .